Lo schieramento di partenza sono prossime al segnale, sono partite. Alla corda Agnesotta, largo Kramer Drive, a ridosso California Suite, lungo lo steccato Super Duchessa, la retroguardia Matrioska. Metà della prima curva con Agnesotta, leader della competizione nei confronti di Kramer Drive. Terza posizione Super Duchessa, largo si mantiene California Suite, la retroguardia Matrioska. Questo è lo schema della gara, il completamento della prima curva quando si va a transitare nel primo quarto dell'addirittura opposta, con lo schema invariato, andatura non trascendentale, quella in posta in avanti da Agnesotta, che deve fare di necessità virtù essendo all'esame distanza, in seconda posizione Kramer Drive. A largo si mantiene California nei confronti di Super Duchessa e Matrioska. Schema che rimane di fatto immutato anche a tre quarti dell'addirittura opposta, con California Suite che va a mettere pressione alla leader Agnesotta. In seconda linea si mantiene Matrioska che muove a largo all'interno Super Duchessa, la retroguardia Kramer Drive. Le cinque concorrenti sono molto vicine fra di loro, poco prima dell'addirittura di arrivo con Agnesotta, che affronta in vantaggio la retta nei confronti di California Suite all'interno Super Duchessa, a largo lavora Matrioska nei confronti di Kramer Drive. Agnesotta richiesta a 400 metri dal traguardo per rispondere alla minaccia di California Suite, a largo si muove anche Matrioska, sposta in campo centrale anche Super Duchessa in anticipo su Kramer Drive. Matrioska all'attacco a 200 metri dal traguardo, impegnata a largo da Super Duchessa, le due in lotta all'interno Agnesotta, lo scatto di Super Duchessa, a largo Super Duchessa sta passando in avvantaggio nei confronti di Matrioska, vince Super Duchessa avanti a Matrioska da Agnesotta. 5-4 l'arrivo di questa quarta corsa a Firenze, la vittoria di Super Duchessa, Andrea Mezzatesta in sella per i treni di Riccardo Pinsauti e i colori dell'allenatore. Alla secondo posto il numero 4 di Matrioska che conferma le buone cose viste all'ultima uscita, rivediamo proprio lo slow motion finale anche in circuito nazionale, con la bella affermazione del numero 5 Super Duchessa, avanti al 4 di Matrioska nella linea che torna alla regia.